sono decollate le 6.000 metri da percorrere la prima campana per eliminazione sarà a meno 22 la prima eliminazione a meno 21 si elimina un giro sì, un giro no per poi arrivare alla campana di meno 4 si elimina ogni giro avete fatto strike, no? che pena è sempre su quella che sta lì ammunità numero 21 abbiamo un gruppo ben compatto abbiamo un gruppo ben compatto abbiamo ad esempio con un oro nella team sprint e un po' anche Giorgio Maratona e noi siamo soli che è ripetito la mania di tutta gli ultimi europei abbiamo avviso subito Ulawai che ha ottenuto sempre gli europei un quarto posto nella maratona un quarto posto nella 10.000 e l'oro nell'americana assieme alle compagnie di squadra che oggi diciamo la hanno conquistato quest'ottimo risultato e poi abbiamo le campioniste della nazionale olandese abbiamo Ed Ferre anche lei che ha partecipato all'Europa Brunzo dalla Pronti Fran Manuel ha ottenuto un argento una stessa americana e ancora L'Un Jan Van Roon è oro nella maratona sempre agli europei davvero un gruppo ben corposo per questo spettacettismo Memorial Pondietti sono arrivato al passaggio di meno 23 campana di meno 22 dal prossimo giro si elimina vai su Rebbe vai su calma 8 5 2 8 8 2 8 5 2 8 8 5 2 8 8 8 5 8 9 10 7 10 10 10 10 10 10 grazie a tutti 7, 4, 9 Campana di meno 16 7, 6, 0 Campana di meno 14 Seconda ammunizione per la numero 21 4, 1, 9 Campana di meno 12 8, 5, 1 8, 5, 1 8, 5, 1 2, 1, 9, 1 Così, così Così Occhio, Fede Campana di meno 10 410 campana di meno 8 attenzione alla caduta allora salta questa eliminazione attenzione all'atleta caduta campana di meno 6 81 campana di meno 4 al prossimo passaggio si elimina di giro 2-4-1 eliminazione anche al prossimo traguardo a tutta campana anche dell'ultimo giro è ultimo giro numero 38 eliminata fuori siamo all'ultimo giro non ti fermare incrocia incrocia tutto tutto arrivo non ti fermi con gli applausi